Dunque Gaetano Mauro è contento perché la sua teoria, i suoi interventi in Consiglio Comunale nei confronti del Sindaco si sono dimostrati esatti. Ora qui però si aprono altre pagine, bisogna capire. Allora in questo caso chi ci rimette? Chi è che ha sbagliato? Adesso quello che percepisce i soldi oppure quello che gli dà? Questa è una cosa da capire perché io percepisco i soldi perché vengo qua e ti dico se non mi dai i soldi io non faccio questo lavoro. Ma c'è una legge che è quello che dice ma secondo me io ho diritto a questi soldi, io ho i miei pareri. Allora in questo caso chi paga? Il problema è che andrà a finire che a pagare dovranno essere i sindaci. Chiaramente non i sindaci uno per uno ma sarà la società che avrà questo debito che sono tutti i mesi di stipendio che ha preso poi domani e che quindi in qualche modo se non lo restituisce dovranno diventare un debito dell'azienda. Ora io ho sempre ribadito su questa vicenda una cosa. A me in verità se poi domani viene pagato o non viene pagato non me ne frega un cavolo, proprio niente. A me quello che mi interessa è che il servizio ci sia, cioè devo dire la verità e tocco ferro, no? Questo è ferro, no? Questo qua è ferro. Tocco ferro che è escluso un paio di giorni a luglio dove effettivamente c'è stata dalle parti mie, dove dalle parti di Ragusa, zona selvaggio, dove nel passato c'è stata questa penuria d'acqua e siamo stati costretti a comprare chissà quanti camion d'acqua, devo dire che escluso questi due giorni siamo andati lisci. Abbiamo fatto una specie di pubblicità progresso che è quella di risparmiare l'acqua. Vi assicuro che la stiamo risparmiando tutti, io so che anche tanti cittadini sono attentissimi nel risparmiare acqua, però devo dire la verità, non abbiamo sofferto come a Caltanissetta, come ad Agrigente a Caltanissetta hanno fatto la raccolta delle firme. A Ragusa c'è stato qualche cosa, è arrivata anche la RAI a fare un servizio, però niente di particolarmente preoccupante. Allora a me quello che interessa è che ci sia il servizio, che si vadano a cercare altri pozzi, che si faccia una tubatura nuova, che non si perda l'acqua, a me interessa cazzarola, che io possa andarmi a lavare tranquillo, tirare l'acqua nel bagno senza preoccuparmi. Questo è quello che mi interessa. Chi è l'amministratore non me ne frega niente. Però io faccio questo lavoro e sono andato a chiedere all'amministratore di questa cosa cosa ne pensa. Ora era in un momento particolare, non poteva fare l'intervista video, quindi l'ho raggiunto telefonicamente. Sono due minuti, ma questi due minuti sono molto importanti, perché Franco poi domani dice a me, secondo me ho ragione io e farò un ricorso ulteriore. Vediamo.